Istituto degli Innocenti di Firenze. Siamo di nuovo a parlare di questo argomento per quale motivo? Perché nell'ultima variazione di bilancio, come detta nell'articolo, al fine di sostenere i lavori di ristrutturazione dell'immobile, di proprietà appunto dell'Istituto degli Innocenti, e destinato a sede del Centro per l'Assistenza all'Infanzia Unicef, è autorizzato un contributo straordinario di 450.000 euro. Questo naturalmente in virtù di un accordo con Unicef che esisteva già precedentemente. Abbiamo votato contrario a questo articolo. Per quale motivo? Perché in questo periodo, e negli ultimi anni mi viene da dire, c'è una situazione molto grave che sta avvenendo all'interno dell'Istituto degli Innocenti, al punto che ci sono due indagini in corso, una delle quali della Procura della Repubblica di Firenze, che ha visto indagato il direttore generale dell'Istituto degli Innocenti. Si dirà che qui in realtà questi soldi non vanno all'Istituto in sé, ma all'Unicef che da anni, da sempre, svolge un'azione meritoria per la tutela dell'infanzia. Naturalmente su questo noi non abbiamo niente da ridire, quindi questo contributo per noi non sarebbe un problema se non ci fossero due indagini in corso proprio per quanto riguarda gli appalti e tutta una serie di problematiche sempre relative a dei lavori di ristrutturazione del museo, naturalmente, non della parte dovuta all'Unicef. Ma qui cosa andiamo a fare quindi? Perché abbiamo votato contrario? Perché ancora una volta si vanno a dare dei soldi a un consiglio di amministrazione che è indagato per probabili malversazioni o per l'utilizzo dei fondi, quanto meno discutibile, per andare a fare che cosa? Dei lavori, delle ristrutturazioni, quindi altri appalti e per cosa ci sono anche le indagini in corso proprio per degli appalti in cui si sono verificati abusi di ufficio e delle nomine a RUP di persone che non potevano non essere adeguate al ruolo. Insomma, praticamente è come dire, ho il sospetto che quella persona sia un ladro, ci sono delle indagini in corso, però intanto siccome abbiamo un accordo in essere, intanto io ti do i soldi in base ai quali ci eravamo accordati. Non vi sembra che ci sia qualcosa di profondamente storto in tutto questo? E questo anche in seguito a un'altra problematica. L'Istituto degli Innocenti, appunto, come mission principale, ha quella alla tutela dell'infanzia e dei minori e delle madri di questi minori e quindi dovrebbe dedicare la maggior parte della sua attività a quella che è la mission principale. Invece, ultimamente, grande priorità dell'Istituto degli Innocenti è stato il MU di questo museo. Come ha detto una consigliera durante il Consiglio, un'attività senz'altro meritoria, perché come ha detto lei, bisognerebbe tutti andare a vedere questo museo perché ci si incanta a guardare le ceramiche, tutte le opere d'arte che sono state ristrutturate. Noi sinceramente come Movimento 5 Stelle ci incantiamo molto di più vedendo le due indagini in corso e su un istituto che veramente per sei secoli ha fatto veramente dei bambini la sua missione. Quindi queste accuse che ci vengono rivolte, diciamo, da parte del PD in cui noi andiamo a disonorare l'onore di questa istituzione che veramente ha dato tanto a Firenze, alla Toscana e all'Italia, noi le rispediamo al mittente. È proprio perché noi vogliamo tutelare questa istituzione che noi diciamo che questi 450.000 euro dovranno essere al momento congelati fino a che non era stata chiarita esattamente la posizione delle persone che questo denaro amministrano. E proprio per fare ciò per il quale sono stati indagati, cioè degli appalti. Quindi ci sembra veramente buonsenso, è una cosa estremamente banale e ci fa strano che il PD e anche altre forze politiche non l'abbiano compreso. Tanto più, come appunto stavo dicendo, ci è giunta voce che gli spazi in cui vengono gestiti i bambini, in cui ci sono gli asili nido dell'Istituto degli Innocenti, sono stati recentemente ridotti al punto che bambini di età di un anno o 3-4 anni vengono messi in classe insieme perché appunto le classi sono molto più piccole. E a seguito di questa riduzione però si chiede di aumentare lo spazio dell'Unicef, che appunto continuiamo a dire ha sempre fatto un lavoro egregio da questo punto di vista per la tutela dei minori, si fanno queste ristrutturazioni per ampliare lo spazio di Unicef da 900 metri quadri a 2000 metri quadri. Anche qui noi vediamo una forte stortura, sicuramente Unicef potrà continuare a fare il suo lavoro a uno stato attuale anche in quei 900 metri quadri. Poi se ce ne saranno possibilità e modalità potrà ampliarsi, ma non vengono prima secondo voi i bambini e soprattutto i bambini che vanno negli asili, specialmente anche in questi tempi dove sanno bene i genitori, visto che siamo nei mesi di settembre, cosa significa andare a caccia di un posto in un asilo nido per i propri bambini, quando non si ha possibilità di poterli accudire personalmente lasciare i nonni. Quindi tutto questo veramente ci sembra una serie infinita di storture che noi vorremmo cercare di correggere. Sicuramente 450 mila euro dati all'Istituto degli Innocenti, affinché vengano poi destinati all'Unicef per delle ristrutturazioni, in un momento storico come questo per l'Istituto degli Innocenti, sono la cosa più sbagliata che ci possa essere. Noi di questo ce ne siamo fatti portatori, ci auguriamo che le autorità facciano il loro lavoro, chiariscano ciò che c'è da chiarire, ma soprattutto noi ancora una volta ci appelliamo all'assessore Saccardi, al governatore Rossi, perché questo istituto, proprio per salvarlo, venga commissariato. C'era un'altra importantissima istituzione in Toscana che ha fatto veramente il bene dei Toscani e dell'Italia intera, ed era del Monte dei Paschi di Siena. Arretto i secoli a tutte, epidemie, pestilenze, disgrazie, qualunque cosa, non arretto ai colpi del PD. Ci auguriamo che questa non sia la fine a cui è destinato l'Istituto degli Innocenti.